Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 6 dicembre, sono le 11.17 e arrivo un po' in ritardo per l'analisi giornaliera perché siamo già short praticamente dai top e lo siamo per un semplice motivo che per quanto riguarda DAX abbiamo sfiorato il target che avevamo qualche tempo fa e se dobbiamo andare a guardare più nel dettaglio la situazione, se qui avremo conferma che sia partito l'ottavo t-3 che sarebbe già arrivato a 20 barre minimo ne durerebbe 21, starà probabilmente partendo il secondo t-4, vedremo se non violerà questi massimi che cosa fare e valuteremo anche la situazione differente, ovvero bisogna sempre guardare soprattutto quando veramente hanno sfiorato un primo target come mai non siamo andati a raggiungerlo come solitamente fa o spaccando il centesimo oppure andando persino un po' in eccesso. Per cui come al solito il suggerimento è di confutare le vostre tresi principali, in questo caso potremo avere una chiusura di settimo t-3 qua, una partenza di ottavo t-3 qui e anche in questo caso, torniamo però indietro se fossimo partiti da qui saremmo ancora potenzialmente in chiusura di un primo t-4 con un eventuale successivo rimbalzo se vorranno fare una forma a t-4 più t-4, anche perché non è detto. È la forma però più canonica sulla quale citariamo. Questo anche perché, perché lo short? Perché lo sapete, giusto? Siamo già arrivati dove? E qui stiamo tirando su, d'accordo, ma una scalpata short ci può stare, avendo già la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura non solo di un quarto t-inverso, ma anche di un mensile inverso. Arrivato a 39 barre, ok? Su massimo 43, quindi ce n'è di storia. Con oggi, anche se non è una data particolare e magari ci avrete venuto a farlo ieri ma non ho avuto veramente il tempo, vi comunico anche un'altra cosa ufficialmente, ovvero che nasce finalmente il primo canale di analisi evoluta marchio registrato, il primo sito, in cui potrete finalmente fare in maniera molto più rapida e automatica una richiesta per gli appunti di analisi ciclica di base, cliccando su questo tasto, piuttosto che andando su questo per chiedere informazioni sul gruppo premium, d'accordo? Sotto troverete anche tante altre informazioni su chi sono relativamente ai fatti relativi ai trade migliori, piuttosto che a un wall che si aggiorna in continuazione su impressioni, commenti su ciò che faccio, sia all'interno che al di fuori del gruppo premium, con le partecipazioni ad House of Trading, con quella che forse oggi o domani andrà in onda su money.it, vi darò poi ovviamente il link, con le partecipazioni all'ITF, piuttosto che per chi è questo sito, per chi non è, le FAQ, cioè le domande che vengono solitamente chieste di più e alla fine un form per essere contattati eventualmente per qualsiasi tipo di altra cosa, ma in realtà la parte più importante è ovviamente questa, d'accordo? Quindi questo diventa l'unico sito www.analisievoluta.com, diventa l'unico sito autorizzato a parlare di analisi ciclica e evoluta e di analisi evoluta, oltre ovviamente al canale che già conoscete con oltre 16.200 iscritti. Passiamo al MIB, dopo le informazioni di rilievo, su MIB non abbiamo iniziato nessuno short, non c'erano le premesse, ieri avremmo valutato di iniziare uno short se fossimo arrivati in quest'area di volumi, siamo arrivati troppo tardi, non abbiamo avuto indicazioni particolari, che cosa è successo? Hanno saltato l'area di volumi e hanno continuato a salire ma siamo parecchio in laterale, come è successo spesso durante queste ultime giornate e quindi stiamo aspettando di vedere che cosa hanno voglia di fare, anche perché, a parte centratura alternative di cui qui non parlerò, qui saremmo già oltre il tempo massimo regolare, come vi dicevo il punto di domanda principale è qua, che cosa abbiamo? Abbiamo un raccordo di grado settimanale inverso tra un mensile inverso e un mensile inverso è arrivato a 11 barre e però la barra di oggi dovrà rimanere rossa e poi si dovrà iniziare a scendere, almeno per far partire un nuovo settimanale inverso, o che cosa? D'accordo? Per questo motivo bisogna vedere se non ci sono centrature alternative e in ogni caso proveremo, valuteremo degli short, vista la centratura attuale, nonostante quella che è la forza molto grande a rialzo, short di breve, ritornando poi però a ragionare di long, appena avremo avuto uno storno che ci porterà a cosa? Alla chiusura del ciclo settimanale, perché anche quella la stiamo aspettando e siamo arrivati al nono ciclo giornaliero, anche in questo caso, anzi in realtà di più con oggi, perché abbiamo fatto, siamo a 10 barre persino, qui non è ancora aggiornato e ovviamente sapete che più ci distanziamo dal punto J e più avremo la corretta possibilità, ah già, no, è vero, ne ho parlato nell'intervento di cui vi lascerò il link su money.it, per cui vi rimando a quello, appena avrò il link lo metterò sia nel gruppo premium che sotto i video di analisi su YouTube, come di consueto, tutti i riferimenti li trovate sempre sotto i video di YouTube, piuttosto che, come adesso sapete, anche su questo sito su cui ho lavorato veramente tanto lo scorso anno. Questa è una delle altre novità che, appunto, mi premeva regalarvi e di cui vi parlavo già tempo addietro, oltre a tutte le nuove collaborazioni che avete visto e a tante altre cose che arriveranno. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, la mia lo sarà sicuramente perché poter fare finalmente trading è la cosa più interessante che c'è e sto limitando, come vedete, video in termini di numero e eventi, finendo ovviamente gli ultimi, per dare più spazio, ovviamente, al gruppo premium che si merita di avere ancora più video riservati a lui. Buona giornata a tutti, arrivederci.